Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha rafforzato anche in questo fine settimana il dispositivo ai controlli volti a verificare il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19. In totale, tra venerdì e domenica, sono state controllate su tutta la provincia 391 persone e 62 attività commerciali, 8 le sanzioni anti-Covid complessive. In particolare, la compagnia di Torre annunziata ha tratto in arresto a Striano, 25 anni originario di Tre Case, sorpreso alla guida della propria auto oltre l'orario consentito all'ordinanza regionale, in quanto risultato evaso dagli arresti domiciliari. Anche la compagnia di Torre del Greco ha verbalizzato due cittadini italiani sorpresi a circolare a lunedì 30 di domenica notte senza giustificato motivo. Inoltre, il secondo nucleo operativo metropolitano di Napoli, a seguito di una segnalazione, ha sanzionato nella zona rossa di Arzano il titolare di un bar e un cliente per l'inosservanza della chiusura disposta all'ordinanza regionale. Diversi anche gli interventi in concorso con le altre forze di polizia, finalizzati a disperdere assembramenti, come nel caso di una rissa verificatasi nel quartiere Vicaria del capoluogo, in un circolo frequentato da immigrati dove era in corso una festa ai cittadini di origine nigeriana. Inoltre, durante il weekend, come spesso succede, dai controlli anti-covid sono emerse anche situazioni illecite, tipicamente di interesse delle fiamme gialle. Grazie a questi controlli, il nucleo polizia economico-finanziaria di Napoli ha sequestrato a Poggio Marino oltre 3.000 articoli di pelletteria, tra cui borse, portafogli e cinture, recanti, noti luoghi e marchi contraffatti. Grazie a tutti.